ultimo giro allora porchetta di suino nero dei nebrodi allevata a caronia perché è così buono si parla un po della preparazione allora preparazione viene intanto viene scelto maialino di 15 kg poi viene disossato infornato con aromi solo locali finocchietto selvatico cannella scorza d'arancia eccetera se ne fa a vedere uno che meraviglia anche il pane lo produciamo noi sono queste le meraviglie dell'isola allora dei nebrodi dei nebrodi dei monti nebrodi invitiamo tutti a patti allora lanciamo l'invito vi invitiamo a patti in questa bellissima location meravigliosa vi aspettiamo a farvi degustare un panino con porchetta meraviglioso abbiamo portato i nebrodi in cima alla norcereria d'italia